Noi vogliamo restarci tutti i franti, poi rilavance per l'asformazione della Fiorentina! Con il numero uno, a questa comunità! E' il numero uno quarto, Mica! Misha! Numero cinque, Milano! Marelli! Numero sette, David! Di Sanco! Numero quattordici, Marecchiaz! Marecchiaz! Numero quattordici, Stefan! Davies! Numero quattordici, Sanchez! Rodriguez! Numero diciannove, Jose Maria! Marecchiaz! Numero quattro, Marcos! Adorso! Numero trentatré, Marecchiaz! Gioves! Numero sette, quattro, Marecchiaz! Sarà! Ed in panchina, a disposizione del mister, Vincenzo! Modena! Con il numero ventiquattro, Lezzerini! Numero due, Rodriguez! Dieci, Aquilani! 23, Pasquale! Venta!